Una produzione tutta partenopea per l'ultimo cortometraggio di Emanuele Palamara dal titolo Uomo in Mare. Il corto vedrà di fatti come protagonista Marco D'Amore, famoso per il ruolo di spietato boss in Gomorra e chi ora vestirà i panni di un ex testimone di giustizia. Tratto da una storia vera, quella di Marco, ex testimone di giustizia costretto a pagare le conseguenze di una scelta giusta, il corto vede nel cast anche il piccolo Antonio Sepe, Lavina Guglielman e Fabio Balsamo di The Jackal. Una vita, quella del protagonista, che viene relegata ad un limbo di paure quando, insieme alla sua famiglia, si vede costretto a vivere nell'ombra a causa di minacce dei carnefici e dalla mancanza di protezione da parte dello Stato. Ne racconta ai nostri microfoni il protagonista Marco D'Amore. Mi faceva molto piacere accostare il mio nome a un personaggio che fa della sua vita una scelta molto difficile ma anche molto dignitosa. Quindi il fatto che potessi chiamarmi come un uomo del genere mi riempieva di orgoglio. Questa scelta trascina non solo il protagonista ma anche la sua famiglia che è composta da una moglie molto giovane e da un bambino e li conduce in questa regione che è anche molto una regione dell'anima, nel senso che Emanuele e Pietro hanno scritto questa vicenda indagando i sentimenti, non facendo di questo corto un racconto giuridico o noiosamente didascalico rispetto a quello che accade a un testimone di giustizia ma li hanno incontrati in un momento della vita molto difficile all'indomani della scelta e come spesso capita a chi assiste a un fatto di sangue viene portato in un luogo che dovrebbe essere di sicurezza ma che invece rappresenta un confine della vita. Una storia che traccia una differenza sostanziale fra un collaboratore ed un testimone di giustizia e che mostra come possa cambiare una vita in base delle scelte giuste o sbagliate che siano, come racconta ai nostri microfoni il regista Emanuele Palamara. Noi non vogliamo giudicare, non vogliamo fare denunce con questo corto, è un corto che racconta alla fine una vicenda familiare e come comunque un nucleo familiare viene spaccato da comunque un fatto che è stato puramente casuale.